La storia è proprio come un waltzer senza fine. E il ritmo fra guerra, pace e rivoluzione potrebbe continuare all'infinito. Marimaya Barton, nata nell'anno postcoloniale 189, figlia di Lisa Barton. La madre è morta due anni dopo la nascita della bambina, il padre sconosciuto. Non avrei mai immaginato che Trowa avesse una nipote. Il Trowa che conosciamo noi non è il vero Trowa Barton. Hai ragione, me l'ero quasi scordata. Si tratta di Marimaya Barton. Barton? Rellena è stata rapita. Che cosa non si farebbe per la persona che si ama? Chang, Buffet. Ma che diavolo fai, Buffet? State facendo la cosa giusta, ragazzi. Come? Vi ho domandato se siete convinti di fare la cosa giusta. Ascoltatemi. La pace non è una cosa che vi viene regalata. Ognuno di voi deve assoluto. Dimmi una cosa, Buffet. Quante persone dobbiamo ancora uccidere? Quante volte ancora dovrò uccidere quella bambina e il suo cagnolino? Il Gundam uccello di fuoco non può dirmelo. Rispondemi tu, Buffet.